ciao amici del canale e miei followers nel bene come nel male qui abbiamo un set completo di tiramisù sono quattro monoporzioni da mezzo chilo l'una non vi dico che ce la faccio a mangiarle tutte non saprei ma proviamo senza morire ricordatevi che questi sono video di intrattenimento youtube è un intrattenimento o almeno per me ok quindi mi raccomando non fate questa casa prendiamoci degli integratori per proteggerci grazie dottore non pensate che io comunque sì la verità l'avete intuita non ce la faccio più